Per la prima volta nella sua storia quasi millenaria, la Cattedrale di Como, dopo domani alle 10, accoglierà la celebrazione di un rito di beatificazione. Madre Giovannina Franchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Infermiere della Dolorata, sarà una nuova beata per la Chiesa diocesana. Presiderà il rito il prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, il Cardinale Angelo Amato. Con lui concelebreranno il Vescovo di Como, Monsignor Diego Coletti, insieme ad altri 6 presuli e sono attesi fino a 100 sacerdoti. Centinaia i fedeli che viveranno questo momento di grande festa che sarà accompagnato nella liturgia da oltre 250 coristi e da un quintetto di ottoni. Sabato la Cattedrale sarà aperta dalle 8 del mattino. L'accesso in Duomo, dove verranno allestiti 1.400 posti a sedere con l'installazione di schermi nelle navate laterali per favorire a tutti la migliore visuale, è assicurato a tutti coloro che si sono iscritti presso la Segreteria della Beatificazione e a cui sono stati consegnati gli appositi pass. Una volta esaurite le postazioni, i fedeli verranno accolti nella Chiesa di San Giacomo, aperta anch'essa dalle 8. Pure qui ci saranno sedie e maxischermi in collegamento diretto con la Cattedrale. A regolare gli accessi una fitta rete di volontari. Per consentire tutta la preparazione, il Duomo resterà chiuso al pubblico nella giornata di domani, le sante messe verranno celebrate nella Chiesa di San Giacomo. All'esterno della Cattedrale verranno allestiti un punto ambulanze e una saletta di prima accoglienza in caso di necessità. La processione di ingresso si muoverà dall'Episcopio alle 9.50. Il consiglio è di utilizzare il servizio di trasporto pubblico per chi usa l'auto, l'invito è di parcheggiare nei posteggi all'ingresso della città come il Valmulini, all'Ipocastano e in via Castelnuovo. Per chi non potrà essere presente di persona, il rito di beatificazione sarà trasmesso in diretta streaming dalle 9.30 sui siti di Espansione TV e Corriere di Como, rispettivamente espansionetv.it e corrierecomo.it.